Voi siete gli angeli di corsia, portate un sorriso ai bambini, specialmente negli ospedali. Sì, sono Clown Smidollata, la presidente dell'associazione VIP Viviamo in Positivo di Caltanissetta. L'associazione è un'associazione federata, quindi siamo presenti in tutta Italia, in 55 città. La sede nazionale è a Torino. Siamo Clown volontari, ogni domenica facciamo volontariato in pediatria e in oncologia all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Facciamo anche volontariato nelle case di cure, andiamo nelle scuole a fare progetti. A breve ci sarà un corso di formazione, quindi tutti coloro i quali volessero intraprendere questa nuova attività di volontariato per regalare sorrisi, cosa devono fare? Esattamente, la prossima settimana, il 6, 7, 8 maggio, ci sarà un corso base. Verrà il nostro formatore di VIP Italia a formare e reclutare nuovi clown. Però poi, dopo il corso base, la formazione continua attraverso le nostre trainer, le nostre allenatrici. E qui, alla mia sinistra, abbiamo Scintillosa. Cosa vuol dire essere un clown di corsia e perché diventare un clown di corsia? Essere un clown di corsia significa avere tante emozioni da distribuire a chi incontri. Essere trainer significa avere la responsabilità di conteggiare gli altri a essere dei clown formati, forse una parolona formati. Siamo noi allenatori che alleniamo i nostri clown come squadra con degli esercizi che ci rendono in sintonia, in fiducia, un gruppo forte per poter poi andare in ospedale a portare sorrisi. Voi siete un gruppo molto nutrito, siete insomma provenite da esperienze professionali eterogenee, completamente diversa l'uno dall'altra, però insieme avete un unico obiettivo che è quello di alleviare la sofferenza di chi sta male. Esatto. Il bello del volontariato è questo, che è un dare avere. Noi siamo convinti la domenica di andare a donare, ma alla fine usciamo che abbiamo ricevuto molto, veramente tanto. In realtà quello che ricevete forse è maggiore di quello che riuscite a dare perché il sorriso che si dà torna indietro. La clown terapia è proprio una terapia non solo per chi riceve, ma anche per noi che diamo. Quindi vi aspettiamo con tanto affetto questo weekend, venite a fare il corso base, mancate solo voi, mi raccomando, vi aspettiamo.